via le barzellette di Danilo, ciacche, ciacche, insomma questo è il tema, c'è stato un cacciatore che è un po' buchinotto, questa stava nel bosco, c'era niente, a un certo punto vede uno scogliattolo dice, corpo giudo, scogliattolo, dice quasi quasi, mu, gli sparo di fine così non lo ammazzo, che mu lo porta a casa, insomma gli tira, lo prende testo, questo scogliattolo casca giù, lui lo sta per accogliere, che era ancora vivo, in quel momento lo guardia caccia, questo prende adesso con fila dentro di cazzolino, guardia caccia, buongiorno, buongiorno, tutto a posto, sì, tutto a posto, non ho preso niente, e se muoveva così, guardia caccia gli fa, ma che c'ha problemi, ora non c'ho niente, c'ho niente, ma scusi, ma lei si sente male, no, io dico che c'ho niente, c'ho niente, insomma lo prende, lo buttate fuori, lo ammazza davanti al guardia caccia, processo direttissimo, dice, ma si rende conto del gesto che ha fatto, lei ha ammazzato uno scogliattolo, specie protetta, ma poi davanti al guardia caccia, ma come gli è venuto in mente da fare un gesto del genere, dice, questo non lei mi deve capire, io l'avevo preso e me lo sono nascosto dentro di cazzolino, quello era vivo, e lui si è messo lì e giocava con lo cazzo mio, si pensava che erano tronco, e l'ho lasciato stare, poi è passata le palle, l'ha preso per due noci, giocava con le noci, e l'ho lasciato stare, a un certo punto gli rote dietro e mi ha scambiato lo culo per la tana, e andrava a scipa, e io l'ho lasciato verde, però quando ha provato a portare le noci d'entrata non ce l'ho visto più, ecco. grazie